Tutti in strada per una due giorni di sport e salute, torna Bari Running Art, la corsa del cuore per la prevenzione delle patologie cardiovascolari, giunta alla sua quinta edizione. La manifestazione, presentata nella sala giunta del comune di Bari e promossa da Amco Puglia in collaborazione con Amacore Bari, l'organizzazione sportiva Bari Roadrunners Club, prenderà il via da Piazza Ferrarese dove sarà allestito anche il villaggio del cuore. Quello a cui noi veramente teniamo, oltre alla running, è la partecipazione dei cittadini tutti al villaggio del cuore. Villaggio del cuore significa che in Piazza del Ferrarese il 18, quindi sabato, ci saranno a disposizione 5 gazebo per fare degli elettrocardiogrammi gratuiti e la misurazione della glicemia, perché questo rientra in un minimo di screening per la popolazione e per la prevenzione cardiovascolare. Cominciare a muoversi, non necessariamente scattando, correndo, anche solamente camminando, è già un buon inizio per stare bene. E poi questa iniziativa ci ha agganciato l'altro tema, ossia quella del controllo cardiaco e del volersi bene, soprattutto oltre a una certa età, non stiamo parlando di anziani, stiamo parlando di 45 anni, 50 anni. Il modo migliore per prevenire malattie cardiovascolari è avere dei corretti stili di vita. Si vive meglio e si prevengono le malattie perché si abbassa la glicemia, si riduce il colesterolo e ci si sente anche meglio, ci si sente più in forma, con più endorfine naturali. Il 18 febbraio la giornata sarà dedicata alla prevenzione delle patologie cardiovascolari, mentre le gare si svolgeranno domenica 19.4, le prove, una 10 chilometri competitiva, due corse non competitive da 10-5 chilometri e una passeggiata da 3 chilometri e mezzo. È una corsa in cui si cerca di stare bene con se stessi e con la salute, grazie alla disponibilità dell'associazione medici cardiologi ospedalieri e i controlli gratuiti che ci saranno all'interno del villaggio. Quindi venite a correre, vi danno anche una bella maglietta e avete più di un motivo per farlo, venite a Bari che apriamo la stagione delle corse grazie alla Corsa del Cuore.